Assessore Diodati, ieri un altro importante passo avanti per il restyling dello stadio adriatico, c'è stato questo incontro in comune, quali sono le novità? Noi c'è perso di capire che ci sia ampia disponibilità da parte della società interessata alla ristrutturazione dello stadio di venire incontro ai vincoli della sovrintendenza, c'è da limare qualche piccola cosa, però diciamo che in linea generale la situazione mi sembra assolutamente migliorata rispetto a qualche mese fa, adesso abbiamo un dato in più perché è interessata anche a questo progetto di ristrutturazione anche l'Invimit che è una società del Ministero dell'Economia e della Finanza che di solito interviene nella ristrutturazione di grandi strutture o nell'acquisto di grandi strutture, per cui è venuto ieri il Presidente nazionale dell'Invimit, è venuto il Commissario del Credito Sportivo, dando la loro disponibilità a un'eventuale partecipazione a questo progetto importante. Noi ci crediamo adesso nel giro di brevissimo tempo, ma veramente brevissimo tempo, visto che anche la Regione che ha mandato un suo rappresentante, il Dottor Ruffini, all'incontro di ieri, anche la Regione vede con piacere, con grande favore questo intervento su Pescara, faremo un incontro nell'arco di forse una settimana, dieci giorni, con tutti gli attori protagonisti, compresi la sovrintendenza, in maniera tale che si possa cercare di arrivare a chiudere questa partita che già dura da un paio d'anni e io credo che la volontà da parte dell'amministrazione c'è, la volontà da parte della Lega di Serie B c'è, sembra che si stia avvicinando anche la volontà da parte della sovrintendenza, credo che ci stiamo avvicinando alla conclusione.